Bema ha scelto di confermare la fiducia a Marco Sutti, con 56 voti contro i 43 ottenuti da Giovanna Passamonti. A secondo turno gli abitanti di Bema hanno deciso in favore della continuità con l'amministrazione uscente. Dopo che due settimane fa le urne avevano restituito un risultato di pareggio assoluto, con 49 voti per ognuna delle due liste in corsa e una scheda nulla a fare da ago della bilancia, il ballottaggio che ha messo di fronte soltanto i candidati alla carica di primo cittadino è stato deciso da una differenza di 13 voti. Ancora più alta l'affluenza alle urne, se al primo turno era già stata da record superando il 71%, al ballottaggio ha votato quasi il 73% dei 139 elettori, per un totale di 101 votanti con una scheda bianca e una nulla, nessuna contestata. Tra i punti del programma amministrativo annunciati dal sindaco Marco Sutti, che ha ricordato la sinergia con Regione Lombardia, che ha portato al finanziamento della nuova galleria per la strada che collega Bema al Fondo Valle, oltre alla conclusione dei lavori finanziati nel precedente mandato, vi è il potenziamento delle realtà associative del piccolo paese orobico.